Allenamento HIIT di facile esecuzione, un ottimo workout per iniziare ad allenarsi ad alta intensità con 30 secondi di esercizio veloce e 30 secondi di recupero attivo. Iniziamo! Iniziamo il riscaldamento più lento, apriamo, apriamo, scaldiamo bene, vamos, vamos, vai, mantieni il ritmo, allarga bene, scaldiamo le spalle, le braccia, tutta la parte superiore, 4, 3, 2, 1, ok, step touch, respirazione, Iniziamo a respirare, naso, bocca, prendiamo aria e buttiamo fuori Iniziamo a scaldare anche la parte bassa, sincronizziamo i movimenti, 3, 2, 1, divarichiamo le gambe, andiamo a destra e a sinistra, vai! Braccio dietro e vado a prendere la punta se riesco, vai, 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 respira, 3, 2, 1, ok, cambio, calcio in avanti, alternato, salgo, salgo, passettino indietro e riparto, vai! Vai, 5, 4, 3, 2, 1, ok, spinta e slanciamo, mezzo squat e slanciamo, pam, pam, mani sui fianchi, giù e slanciamo, scaldiamo bene, parte in fiori del corpo, vai! 5, 4, 3, 2, 1, sciogli, cambio, dall'altra parte, hop, e vai, hop, e vai, sincronizza anche le braccia, fai lavorare anche le braccia, vai, scendi, sali, mezzo squat e slanciamo, 5, 4, 3, 2, 1, ok, Ok, mettiamo sempre le gambe, spinte dietro, pam, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vai, scaldiamo bene, braccia, spalle, inizia la respirazione, naso bocca, 5, 3, 2, 1, torsione, vai! Vai, lento, controllato, scaldiamo bene, 10 secondi e andiamo in jumping jack, respira, 5, 4, 3, 2, 1, vai, jumping jack, Sincronizza il movimento, braccia su, braccia giù, aperto, chiuso, aperto, chiuso, sincronizza, vai, vai, mantieni il ritmo, 15 secondi e passiamo a step touch Inizia a respirare, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, step touch, respira, mantieni sempre la respirazione attiva, non lavorare mai in apnea, 20 secondi andiamo giù, plank in movimento, respira, pam, 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 Fai lavorare anche le braccia, 10 secondi, plank in movimento, vai, respirazione, andiamo giù, 3, 2, 1, plank in movimento, vai, alterna bene i due movimenti, braccia tesa, addome contratto, vai, non barcolare, Rimani retto, alterniamo bene, vai, mantieni, 5 secondi, continua, 3, 2, 1, su, saltellate dietro, sul posto, respira, 20 secondi e cambiamo con l'affondo indietro alternato, respira, recupera, 10 secondi e andiamo in affondo, alternato, prima una gamba e poi l'altra, 3, 2, 1, vai, affondo indietro, pam, pam, Utilizza le braccia, che servono per la stabilità, respirazione, vai, questo esercizio lavora gambe, glutei, l'addome retto, vai, mantieni il ritmo, 10 secondi e andiamo in step touch, Se riesci a toccare bene, se no sfiori il pavimento, 2, 1, step touch, respira, naso, bocca, sempre la respirazione, importante, 20 secondi e ripartiamo, 3 torsione e un pugno, Respira, lavora anche le braccia, 10 secondi, ci prepariamo per torsione e pugno, posizione di mezzo squat, 5, 4, 3, 2, 1, vai, pam, 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 e vai, su, mantieni il ritmo, lo puoi fare anche più corto, a 2 pugno, vai, Lo butto fuori nel pugno, vai, torsione e pugno, vai, 4, 3, 2, 1, ok, saltellata dietro, recupera, respira, naso, bocca, vai, Riprendiamo il fiato, mani sui fianchi, 10 secondi e riprendiamo squat, ok, facciamo un bello squat pieno, gambe glutei, 3, 2, 1, vai, squat, e sali, e sali, lavoriamo bene con le braccia, Scendiamo, scendiamo, palloni a terra, il ginocchio non supera la punta dei piedi, vai, mantieni il ritmo, vai, 10 secondi e torniamo in step touch, vai, vai, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, step touch, respira, Riprendi il fiato, riprendi il fiato, la respirazione è importante mentre vi allenate, non fate gli esercizi o le figure in apnea, se no perderete il ritmo e andrete in affanno, naso, bocca, E butta fuori, vai, 5, 4, 3, 2, 1, ok, perfetto, pausa, preparati per il prossimo blocco, lavoreremo sempre in 30 secondi ad alta intensità, 30 secondi di recupero attivo, Ok, riprendiamo, jumping jack, vai, allarga bene le braccia, sincronizza bene il movimento, apertura qui, chiusura qui, apertura qui, chiusura qui, vai, 15 secondi, vai, Vai, lavoriamo in total body, vai, hit, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto, step touch, respira, recupero attivo, lavora anche le braccia, sincronizza il movimento, Con la respirazione, naso, bocca, 15 secondi, andiamo giù, plank in movimento, quindi posizione del plank, ginocchio alternato che sale verso il petto, ok, 5, 4, 3, 2, 1, vai, giù, posizione di plank, braccia tese, addome contratto, respira, Movimento lento, controllato, facciamo lavorare bene, addome, lombari, braccia, spalle, vai, 10 secondi, respira, 5, 4, 3, 2, 1, ok, saliamo, calciata dietro, recupero attivo, 20 secondi, 20 secondi di recupero attivo, e poi ripartiamo, affondo indietro alternato, andiamo a lavorare gambe, glutei, ok, respirazione, 10 secondi, respira, 5, 4, 3, 2, 1, vai, affondo alternato, passiamo su col busto, utilizziamo le braccia come stabilità, Se riesci, tocchi col ginocchio per terra, lentamente, se non riesci, ti fermi prima, vai, 10 secondi, andiamo in step touch, mantieni il ritmo, vai, 3, 2, 1, ok, step touch, Questo è un recupero attivo, approfitta per riprendere il fiato, ristabilire la respirazione, 15 secondi, e ripartiamo con torsione e pugno, vai, respira, dai che ci siamo, continuiamo a bruciare i grassi, andiamo, 3, 2, 1, posizione di mezzo squat, vai, 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 mantieni il ritmo, su, su, torsione, pugno, vai, segui la velocità del video, su, respira, dai che ci siamo, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupero attivo, respira, naso, bocca, alciata dietro sul posto, vai, prendi l'aria, e butta fuori, recupera, tra 10 secondi ripartiamo, facciamo lo squat pieno, scendiamo bene, ok, 3, 2, 1, cerchiamo le gambe, vai, e scendi, e vai, e vai, aiutati con le braccia, ti aiuta la stabilità, e ti aiuta a sincronizzare il movimento, vai, vai, lavoriamo gambe, glutei, addome, vai, 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 mantieni il ritmo, 8 secondi, vai, su, su, 3, 2, 1, ok, cambio, step touch, approfitta per recuperare, riprendi fiato, regolarizziamo i battiti, vai, respirazione, bruciamo i grassi, tonifichiamo, rassoddiamo, 5, 4, 3, 2, 1, ok, perfetto, pausa, ultimo blocco, tieni duro, lavoreremo sempre in 30 secondi ad alta intensità, 30 secondi di recupero attivo, ok, riprendiamo, jumping jack, mantieni il ritmo, separa bene il movimento, coordinato, quando fai l'esercizio, mantieni sempre la respirazione attiva, non lavorare in apnea, vai, movimento ampio, controllato, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, step touch, vai, recuperiamo, respirazione, prossimo esercizio è il plank in movimento, quindi andiamo giù, posizione del plank, braccia tese, addome contratto, il ginocchio che sale alternato verso il petto, respira, 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 3, 2, 1, giù, blocco, e salgo, vai, scandisci bene i movimenti, 1, 2, 1, 2, addome contratto, mantieni il ritmo, non ti fermare, 10 secondi, braccia tese, non bacolare col busto, vai, 5, 4, 3, 2, 1, risali, recupero attivo, calciata dietro, respira, prendi fiato, 15 secondi e ripartiamo a fondo indietro alternato, lavoriamo gambe, glutei, respira, respira, 3, 2, 1, andiamo giù, vai, e salgo, mantieni il ritmo, esercizio lento, controllato, vai, vai, respira, utilizza le braccia per l'equilibrio e per sincronizzare bene il movimento, vai, 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 3, 2, 1, ok, step touch, recupera, riprendi fiato, 20 secondi, ripartiamo, torsione e pugno, torsione e pugno, posizione di mezzo squat, scarichiamo sempre a terra il peso, ginocchia piegate, per non scaricare sui lombari, 5, 4, 3, 2, 1, vai, mezzo squat, pam, pam, e vai, vai, mantieni il ritmo, vai, vai, controlla il movimento, vai col pugno, agile, brillante, veloce, sincronizzato, respirazione, non mollare, bravo, cambio, respiriamo, riprendiamo fiato, il prossimo esercizio è lo squat, faremo lo squat pieno, scendiamo bene, con attenzione sempre che i ginocchia non superano le punte dei piedi, respirazione, 5, 4, 3, 2, 1, squat, laviamo le gambe, e sali, e sali, movimento corretto, controllato, facciamo lavorare anche le gambe, vai, vai, testa dritta, addome dritto, vai, non pieghiamo in avanti, 10 secondi, vai, 5, 4, 3, 2, 1, ok, sali, step touch, riprendiamo il fiato, respiriamo, naso, bocca, controlliamo i battiti, 15 secondi, respira bene, mai lavorare in apnea durante i workout, sempre respirazione, 3, 2, 1, perfetto, ora andiamo in pausa, 3 minuti di stretching e poi terminiamo il workout, ok, ripartiamo, stretching, circonduzione in avanti, defatichiamo il corpo dopo il workout, pigliamo leggermente le gambe, circonduzione in avanti, movimento lento, controllato, cambio, dietro, approfitta per respirare, movimento lento, controllato, scarica le tensioni, vai, 5, 4, 3, 2, 1, mobilizzazione della colonna, ci pigliamo, mani sui fianchi, indietro con la spalla, rientriamo e su, indietro, rientriamo, su, continua, su, scarichiamo la schiena, vai, su, dietro, buttiamo fuori e su, 5, 4, 3, 2, 1, ok, respirazione, allarghiamo le gambe, andiamo giù, prendiamo l'aria, blocco, trattieni e scendi, questa respirazione rallenta i battiti e vi fa recuperare, ok, stretching gamba sinistra, andiamo su, prendiamo bene, utilizza il braccio per la stabilizzazione, l'equilibrio, continua a respirare, naso, bocca, respirazione, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto, sciogli l'altra gamba, sali, allarga il braccio, ti aiuta nella stabilità, mantieni, continua a respirare, naso, bocca, 3, 2, 1, perfetto, sciogli, divaricata frontale, allarghiamo le gambe, andiamo giù, prendiamo le caviglie, se riesci puoi anche arrivare alle punte, altrimenti ti fermi sulle caviglie, respira, sciogli le tensioni, mantieni l'allungamento, andiamo da una parte, ci spostiamo, mantieni, mantieni, poi piano piano, passiamo dall'altra parte, sciogli bene, rifatichiamo, devi tirare dietro, allunga il muscolo dietro, 2, 1, piano piano, dall'altra parte, prendiamo la caviglia, mantieni, mantieni l'allungamento, allunghiamo bene, 5, 4, 3, 2, 1, ritorna in mezzo, vieni su, piano 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 piano, ok, perfetto, il nostro workout è finito, al prossimo allenamento, vamos! grazie a tutti! Grazie a tutti.